Siamo in collegamento con il Vice Presidente nazionale di Confesercenti e Presidente di Campania e Molise. Ben trovato Presidente, grazie per essere collegato nuovamente con noi. È un piacere stare con voi, grazie a voi per l'invito. Allora Presidente, un momento assolutamente positivo per il trend turistico, la città di Napoli e tutta la regione, veramente per il ponte di Ogni Santi ha battuto numeri da record, c'è bisogno però di migliorare i servizi? Sì, assolutamente. Come diceva lei prima, la città, la regione è piena di turisti, fortunatamente. Quindi gli alberghi, gli extraalberghiere hanno avuto un riempimento del 90%. Quindi ristoranti, guide, accompagnatori, musei, tutti hanno lavorato tantissimo. Ovviamente ci siamo trovati in una città dove c'era tanta immondizia per strada e ci sono stati delle difficoltà nei trasporti. Quindi è necessario assolutamente poter mettere mano a quello che sono i trasporti nella nostra città. E un terzo punto e non ultimo è quello della sicurezza. Continuare ad alzare la difesa dei nostri turisti nella città di Napoli perché non possono essere assolutamente vittime dei tanti ladruncoli che stanno liberi per la città. Quindi possiamo dire che Napoli è ripartita alla grande dopo la pandemia, c'è bisogno però di farsi trovare pronti almeno adesso per le prossime vacanze natalizie. Dove si prevede un altro momento di grande affluenza turistica? Le prenotazioni già volano, è così? È così, le prossime settimane, quindi fino all'Immacolata, i weekend sono pieni, quindi c'è già oggi un riempimento del 70-80% delle strutture alberghiere. Quindi arriveremo all'Immacolata che sarà un altro grande weekend dove la città di Napoli, la regione Campania, le nostre isole saranno piene di turisti. Ma bisogna lavorare perché questi turisti possano stare bene, possano ritornare nella nostra regione, nella nostra città e fare in modo che il turismo possa essere quel bolano dell'economia del nostro territorio che permetterà ai tanti imprenditori di ripartire, di avere fiducia e di ricontinuare a stare alla guida delle loro attività senza buttare la spugna. Presidente, questo trend così positivo potrà servire a salvare le imprese che rischiavano fino a qualche mese fa il fallimento? Guardi, il turismo salva sicuramente le imprese del turismo, ma non salva tutte le imprese. Quindi tante imprese delle attività commerciali, come quello dell'abbigliamento, stanno in grande difficoltà. Anche loro stanno avendo dei benefici dal mondo del turismo, ma ovviamente, le porto un esempio, la città di Napoli, il mondo del turismo ha incassato oltre 20 milioni di euro per questo ponte dei Santi, dal 29 al 1 di novembre. Di questi 20 milioni, quasi 2 milioni e mezzo sono entrati nelle casse dei negozi di abbigliamento. Ma è poca roba, perché avrebbero bisogno di incassare mediamente intorno ai 15-20 milioni di euro a weekend che non hanno incassato. Quindi sicuramente il turismo sta dando una spinta all'economia e sicuramente sta fortificando gli imprenditori del mondo del turismo. Ma abbiamo bisogno che questo turismo continui a rimanere tutto l'anno da noi, quindi destagionalizzare, fare in modo che non ci siano dei vuoti. E questo potrebbe sicuramente dare supporto e aiuto alle imprese, ma non è ovviamente la possibilità, come dire, non è il paragadute per tutte le imprese, purtroppo. Confessor Centi, come legge i primi provvedimenti del nuovo governo, Targato Fratelli d'Italia, Targato Centrodestra, guidato da Meloni? Ma guardi, come li leggiamo? Leggiamo che in questo momento stanno facendo, come dire, dimostrando un attimino la loro presenza al governo, facendo delle azioni forti. A noi interessa molto che diano delle risposte alle imprese e allo stato attuale abbiamo bisogno di capire quando fermeranno il caro energia. In questo momento è necessario capire in quanto tempo metteremo mano a quelle che sono i rincari di tasse che negli anni, purtroppo, le imprese hanno subito. Quando metteremo in condizione gli imprenditori di assumere le persone e di fare in modo che la persona che assumo il 70-80% dei costi che ha l'imprenditore entrano in tasca al lavoratore? Perché egoisticamente ci interessa, come lo dico sempre, che il lavoratore stia bene, che incassi i soldi, perché più soldi incassa il lavoratore, meglio vanno le nostre economie. Quindi abbiamo bisogno di capire questo. Ci auguriamo che il governo si esprima quando prima possibile. Noi di Confessacente abbiamo presentato un decalogo dei punti fondamentali per tagliare le tasse, per dare supporto al caro energia, per fare in modo che gli imprenditori possano assumere senza troppi problemi, cercare di mettere mano a quello che è il dramma della burocrazia, che in Italia fa morire ogni anno oltre 10.000 imprese. Quindi sono tanti drammi che dobbiamo confrontarci e fare in modo che il governo possa darci delle risposte. Stiamo qui ad attendere le loro risposte. Grazie Presidente, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi.